Qui stiamo a Udine, c'è un piacere autentico e ancora in più dopo di conoscere, di intercambiare conversazioni e riflessioni con questi vostri esponenti, con Federico Rossi, con William Cicillino. E anche per questa ragione che noi dalla Catalogna abbiamo tante speranze, tanti progetti sulla nostra interpendenza, sulla nostra decisione politica futura, ma constatiamo che siamo in qualche modo in intima connessione con quegli sentimenti, con quella realtà che qui in Friboli si percebe, si vive. Sono di realità sociale e politica differenti, anche lo sono l'estato spagnolo e l'italiano, ma abbiamo questo in comune e soprattutto abbiamo in comune che siamo decisi a essere parte attiva di questa Europa che abbiamo quasi perso, ma che vogliamo e dovremmo recuperare, guadagnare.